Il Consiglio regionale ha approvato i chiarimenti richiesti dal governo Conte rispetto alla legge 9 cura Abruzzo 1. Il provvedimento, dice la maggioranza di centrodestra, fornisce le risposte ai dubbi sollevati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Da parte del governo regionale a guida Marsilio c'è la convinzione che non si arriverà ad un contenzioso costituzionale perché, si spiega, è stata prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese del territorio abruzzese a fronte di coperture finanziarie certe e già agli atti. Però voglio rimarcare che ci siamo presi un po' di rischio come maggioranza ma un rischio calcolato perché in un momento del genere, un momento di grandi difficoltà, in un momento del più della pandemia la politica deve dimostrare di avere anche coraggio e penso che questo coraggio lo abbiamo dimostrato. Restano però le perplessità delle opposizioni Centrosinistra e Movimento 5 Stelle secondo cui anche il cura Abruzzo 2 sarebbe viziato dagli stessi difetti del cura Abruzzo 1, ragion per la quale è lecito aspettarsi un'ennesima impugnativa da parte del governo nazionale. Negativo perché purtroppo avevamo ragione sulle tante sollecitazioni che avevamo portato all'attenzione della maggioranza. Non vi erano le risorse sufficienti a copertura e così è stato. Oggi vanno a di fatto produrre una norma che decurta dal cura Abruzzo 1 decine e decine di milioni di euro sostanzialmente svuotandolo dalla maggior parte delle misure previste e propagandate. Secondo tema la questione del condono tombale, quello che ho definito il condono tombale ma che riguarda le transazioni. Sono state sostanzialmente abrogate tutte quelle relative alla sanità, gridavano allo scandalo. Beh sicuramente a coperture certe finalmente i vari contributi potranno arrivare. Quello che temiamo è che si ripeterà la stessa storia anche per il cura Abruzzo 2, tanto è vero che qualche emendamento al cura Abruzzo 2 è stato inserito all'interno, verrà inserito all'interno di questa norma. Per cui forse hanno capito una buona volta che ascoltare le opposizioni quando si tratta di come dire critiche costruttive per migliorare le leggi conviene, conviene aspettare qualche giorno in più un po' meno propaganda e un po' più preparazione sugli atti.